Ben trovati amici del Centrometeo Italiano. Inizio settembre è sinonimo di motori in Italia, dopo il Gran Premio di Monza infatti questo weekend tocca al moto mondiale scendere in pista per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Grazie alla presenza dell'anticiclone sul circuito di Misano intitolato a Marco Simoncelli, il clima risulterà quasi estivo per tutta la durata del fine settimana. Fin dalle prove libere i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi, con sia le qualifiche che le gare che si disputeranno sotto al sole. Temperature poi sopra le medie del periodo con valori massimi attorno a 27 gradi, mentre la ventilazione sarà debole o moderata di direzione variabile. Per tutti gli approfondimenti e gli aggiornamenti sul moto mondiale vi invitiamo come sempre a seguire il nostro sito o il nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centrometeo Italiano.